Quando non puoi evitare il carcere? Ciao, sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista e ti difendo nel processo penale. Non puoi evitare il carcere anche con una pena inferiore ad esempio a 4 anni di reclusione quando il reato è ostativo, ovvero particolarmente grave, tanto che il nostro ordinamento prescrive obbligatoriamente il passaggio in carcere. Un reato ostativo, giusto per fare qualche esempio, è il reato di violenza sessuale su minori oppure i maltrattamenti su minori o davanti ai minori. Dovrai quindi scontare una pena in carcere e dovrai passare almeno un anno di osservazione dove apposita equip valuterà se ti sei emendato dal reato. Se così non fosse, ovvero se non hai compiuto una rielaborazione critica del reato commesso, allora dovrai scontare l'intera pena all'interno dell'istituto carcerario.